Signori! Eh sì, questa sera vi saluto alla Total Fred Eh, visto che, vabbè, lui lo sapete che, insomma, è del Milan Però, insomma, volevo salutarvi anche come a volte, anzi, come sempre, fa lui Oltretutto il suo Milan stasera ha perso E lo sapete, insomma Noi invece abbiamo vinto, dopo due anni circa, è stato detto, a Milano una partita di Champions Quella con lo Sheriff E, oltretutto, c'è anche un'altra cosa che ho saputo questa sera Domenica tornerò finalmente anch'io a vedere una partita Ovviamente è neanche una partita qualsiasi, ecco Perché domenica, lo sapete tutti, neanche a dirlo ci sarà Inter-Juve E io e mio padre saremo lì a vederlo Quindi, eh, prima della partita, quando ci sono, quando ci saranno le formazioni Farò sicuramente un video e ve lo metterò, eh, qui sul canale Vi farò sentire e vedere il boato, insomma, di San Siro Adesso, però, parliamo della nostra Inter e della partita di questa sera Eh, prima di parlarne, però, eh, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanella per non perdere mai nessuna notifica Peraltro, oggi è uscito anche il video in cui vi faccio vedere Che cosa vi faccio vedere, insomma, andatelo a vedere il video che è uscito oggi pomeriggio E lo saprete Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su Facebook E di seguirmi anche la mia playlist di Spotify Tutto come sempre qui in descrizione Allora, Inter batte Sheriff 3-1 Che dire di questa partita? Che dire di questa partita? Volevo prima dire un secondo una cosa sul Milan, visto che ha perso Eh, infatti Eh, che ne dici, Matte? Porto-Milan, ha giocato solo il Porto Il Milan ha fatto veramente poco Perché mentre guardavamo l'Inter, con un occhio guardavo Guardavo al computer anche E che vedeva, c'era il Milan E tutte le volte che guardavo Il Porto aveva la palla Fred, mi dispiace Al 65esimo Diaz ha segnato Boh, è finita lì E' andata già bene, gli è andata bene al Milan Che ne ha preso solo uno Eh, non è un buon anno Non è un buon girone per il Milan Però c'è ancora tutto lo ritorno Vedremo un po' Veniamo a noi Veniamo a noi Con la nostra Inter Sì Bene Bella partita Niente da dire La squadra ha giocato bene Ci sono state parecchie occasioni Qualche occasione L'ha avuta Anche lo Sherry No, Matte? Sì, mi è proprio di sì Però Forse ne abbiamo avuto i primi Abbiamo Abbiamo dominato la partita Abbiamo stammeritato Al 16esimo Geco Ha tirato Parato dal portiere Al 18 Di Marco Alto Un'ottima Inter C'è stato un pericolo Al 29esimo Ma Al 33esimo Una super punizione Di Di Marco Parata dal portiere Fino ad arrivare al 34esimo Dove Il vecchietto Geco La butta dentro 1-0 Da calcio d'angolo Ma Lui in mezzo all'area È un colosso Eh, Matte? Che dici? È un gigante Sì Lo criticavamo tutti È vecchio Ma segna sempre Infatti Vabbè Domenica scorsa Con la Lazio Non ha segnato Effettivamente Però Ogni tanto Si può inchiestare A 44esimo L'ha imparato Sempre su Geco Insomma Ottimo primo tempo Secondo tempo Non è stato da meno No Non è stato da meno Ha subito pareggiato Al 52esimo Till Su punizione Una punizione Era lontana Andandovi Probabilmente Era un po' distratto Perché È una palla Parabilissima È arrivato in ritardo L'ha appena toccata Ma è andata dentro Si vede che Un po' coperto Un po' che era distratto Intanto era lontano Pallone Però L'ha tirata Bene Ben messa Ed è comunque Andandovi C'è un po' sorpreso Qualche responsabilità Ce l'ha Si Si In questa occasione Si Però subito Ci siamo Non ci siamo Demoralizzate Al 54esimo Danfris Alto Al 56esimo Peris Palo C'è stata Una 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 Un attacco Un attacco Un assedio Nell'area Si insomma Non abbiamo fatto Quello che avremmo fatto Cioè che Appena subiamo il pareggio No 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 Ci spegniamo E al 58esimo Vidar Fa 2-1 Si continua Sempre una buona inter Tutto Al 66esimo Da calcio d'angolo De Vrij 3-1 Nonostante tutto Si continua A attaccare Peris Si prende La traversa L'82esimo E Sensi Subentrato Nel finale Di partita Ha spiorato L'incrocio Dei pali All'89esimo Niente Ottima inter Quindi parecchiazioni Parecchiazioni Anche qualche Bella azione Dello Sheriff Ma abbiamo Dominato la partita Buona inter Bravi ragazzi Quindi siamo contenti Vedremo domenica Sì domenica Come vi ho detto Noi saremo lì Speriamo Insomma Siamo già contenti Almeno Io sono contento Di tornare A San Siro Dopo quasi due anni Dopo quasi Quindi comunque vada Sarà comunque una vittoria Però se si vincesse Anche la partita Sarebbe un bel regalo Esatto Sarebbe un doppio bel regalo Doppio bel regalo E Comunque Quindi oltre che il post partita Ci sarà anche Come vi dicevo all'inizio Il video Mentre ci saranno Le formazioni E il boato Di San Siro Che vi porterò sicuramente Qui sul canale Bene Noi ci vediamo domani Alle sette e mezza C'è il video Delle dieci tracce Anni 90 e 2000 Mixate da me E domani sera Appunto Il post partita Della partita Della Juve Che speriamo ovviamente Che perda anche domani In Champions Ma ne parleremo Domani sera Ciao Da MM8 E da Claudio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti